Open content, open data, open source, open hardware, open government. La pubblicistica e la retorica politica si sono impossessate del termine open piegandolo spesso a interpretazioni di comodo e dimenticando il suo senso profondo e la matrice originaria. Il senso profondo della parola open ha a che fare con la cooperazione tra gli esseri umani, mentre la sua matrice originaria va rintracciata nella cultura hacker da cui è gemmata. Il libro Un dizionario hacker è un tentativo nuovo, diverso, forse modesto nella portata, di raccontare la lotta per la liberazione dei dati e delle informazioni all'interno delle culture hacker e all'interno dei movimenti per la pubblicità del sapere che considerano il copyright tradizionale antiquato e totalitario. Il libro è organizzato come un lemmario in cui di ogni parola si dà storia, definizione, esegesi, un'interpretazione critica e non neutrale. Parole come anonymous, come autodifesa digitale, come censura, copyright, privacy, software libero, wikileaks, network, tutte queste parole sono raccontate con uno spirito critico da me, un dizionario hacker. Grazie a tutti.